Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Francesco Manca il terzo Vai Benetti E' arrivato anche Francesco Benetti Tanto Penasa E poi Polvara Tripletta azzurra Nel finale sono andati a riprendere Penasa e Penetti E' campionissimo di Banzio Bravo Gianfranco Abbiamo detto Un mese fa qui correva Con il busto Alcune costole fracassate Grazie a tutti